Benvenuti all'edicola di Sky TG24, vediamo insieme le prime pagine dei giornali che sono giunte in redazione e che troviamo questa mattina in edicola. Allora, 50 anni fa l'uomo mise piede sulla luna e Sky TG24 lo ricorda oggi dalle 16 con un lungo speciale, lo sta facendo anche negli ultimi giorni e nelle prossime ore con tantissimi servizi, contributi e testimonianze. Tra queste c'è anche la storia di questo che è Rocco Petrone, che è un italiano, o meglio figlio di due italiani, lui è italiano-americano, che era il capo della control room di Houston, il capo della missione Apollo 11 che arrivò sulla luna, di origine lucana, e infatti il mattino di Puglia e Basilicata, titola oggi, la Basilicata andò sulla luna. Il suo successo fu anche il sogno americano di generazioni di immigrati italiani, fu il lucano Rocco Petrone, direttore dell'Apollo 11, a dare il via il 16 luglio 69 alla navicella spaziale che portò Armstrong a mettere piede sul suolo lunare il 20 luglio.